Oggi più che mai, il marketing è basato sui rapporti interpersonali, fedeli alla nostra filosofia. Continuiamo ad evitare di puntare solo alla vendita di prodotti, focalizzandoci invece sulla costruzione di un rapporto vero e diretto con i clienti. In questo settore in continua evoluzione, Dental World Ungheria offre un'opportunità unica, essere faccia a faccia con i vostri futuri clienti dell'Europa centro-orientale. Principali vantaggi nell'essere presenti al Dental World Ungheria, Lead Generation, Customer Education, stabilire un contatto diretto con manager e business locali, incremento delle vendite, elevato ritorno dell'investimento, presentare i vostri prodotti alla più grande mostra congressi del settore dentale dell'Europa centro-orientale a Budapest. Conquistare nuovi clienti provenienti da otto paesi, incontrare partner commerciali internazionali, stabilire una nuova presenza nell'Europa centro-orientale. Tutto questo al Dental World Ungheria, la vostra mossa intelligente per il mercato europeo centro-orientale. Grazie.